Cioè, francamente mi sembra immotivato questo timore, come dire, a prioristico, prima ancora che questi siano arrivati, solo all'annuncio già c'era qualcuno che chiedeva se doveva cambiare i figli da scuola. Cioè, tra l'altro adesso si sta lavorando, proprio perché dovrebbero partire nel giro di qualche settimana, dei progetti lavorativi gratuiti che impegnerebbero, come già è avvenuto, se non ricordo male, avevo sentito un servizio, credo a Nimis, insomma, nella regione. Farete lavorare i rifugiati, questa è una notizia. Sì, 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 è una notizia, ci sta lavorando in particolare l'assessore Famulari con i suoi uffici, perché proprio per fare in modo che durante, perché non è una loro volontà quella di stare lì con le mani in mano, come si diceva, è un dato di fatto, ma è un dato che... Lì si può far lavorare su base volontaria, dicevamo sempre tutte le volte. Assolutamente sì. Io ci ho provato una volta. Aspetti, aspetti, cosa faranno? Beh, adesso io non so nei dettagli i progetti a cui sta lavorando, ma comunque credo che fosse qualcosa che riguardava i giardini. Se lo vogliono fare, su base vogliono fare. Sì, certo, se lo vogliono fare, ma la maggior parte delle persone interpellate era assolutamente disponibile. A un mio dipendente qualche tempo fa, che portava Boccioni nel furgone, si avvicina uno al semaforo, un extraquonitario, chiedendogli soldi e dice, ascolta, soldi non ti do così, però se vieni, monti il furgone, vieni a darmi una mano... Ti metto a lavorare. Ti metto a lavorare. Lui è andato avanti senza dire niente, ma questo è un caso unico per carità di... Consente loro di integrarsi meglio nella comunità e di essere visto anche con un occhio diverso. Sì, sì, ma sicuramente sono pagati, sono già pagati, devono farlo a formazione, ma c'è il tempo... Beh, a seconda di quello in cui saranno impegnati si farà, però appunto, come diceva, insomma, sono cose che... Sì, sottolineiamo non pagati più di quanto lo sono adesso, no? No, perché sono già pagati, no? No, gratuitamente, gratuitamente, sottolineo gratuitamente. In rosso.